Vi si accusa che siete la stessa faccia della stessa medaglia e che avete già un accordo con il centro-sinistra per il ballottaggio, è così? Allora, lo smentisco nella maniera più assoluta. Evidentemente chi ha messo in giro questa voce forse era convinto di vincere tranquillamente qualche settimana fa al primo turno, adesso comincia a avere qualche certezza in meno. E' una fandonia, purtroppo si sta anche incattivendo la campagna elettorale, gira questa voce che noi siamo già d'accordo con la giunta uscente e che rinunceremo addirittura a portare le modifiche al piano regolatore sull'area dell'ex zuccherificio. Noi con Marchegiani lo prendiamo come impegno solenne, lo posso tranquillamente dire, che con Marchegiani sindaco l'area dell'ex zuccherificio verrà tutta rivista, verranno rimessi i divieti per le duste insalubri e il famoso polo logistico, che è una cosa positiva per la città di Fano, verrà fatto da un'altra parte perché far passare centinaia di camion davanti via Mattei dove non c'è un sottopasso per andare alla piscina mi è stato disposto dall'assessore addirittura che è pericoloso passare di notte il sottopasso invece di attraversare via Mattei a piedi di giorno non è pericoloso. Questa cosa per noi non è concepibile, è una fandonia, noi assolutamente non abbiamo nessun accordo e andiamo diritti per la nostra strada, anche perché noi ci consideriamo l'unica vera alternativa di centro-sinistra perché noi non siamo il centro-sinistra che perde 20 milioni perché si incaponisce su una strada impraticabile, tra l'altro oggi Marchegiani ha precisato in un posto tutta la sua genesi personale sulla strada di Gimarla, sul perché alla fine convintamente ha votato no. Noi non siamo il centro-sinistra che permette all'Owider al porto se vuole di andare altri 10 metri più in alto, non siamo il centro-sinistra che autorizza a Monte Giove fare un monastero da 3.000 metri quadri, non siamo il centro-sinistra e questo mi sta particolarmente a cuore che lascia lo stadio Mancini in quelle condizioni dal 2018 se non sbaglio e non siamo soprattutto quel centro-sinistra che permette che centinaia di camion possano passare dentro la città per arrivare all'area dell'ex duccherificio. Comunque trovare un accordo anche futuro potrebbe essere difficile visto quanto lei dice. Io dico che con Marchegiani siamo convinti di andare al ballottaggio e di poter sistemare alcune cose che non sono state fatte bene perché l'alternativa, in questi giorni Simona si dice molti per strada, è perché se no consegnate la città alla destra. Questa destra che a volte è arrogante e boriosa, anche a me ovviamente non piace, quando la destra dice che si augurano di vincere Fano perché così c'è la famosa filiera Roma-Ancona-Fano, per noi questa non è democrazia perché la democrazia è che se la regione di un colore ma il comune è di un altro colore tu lo aiuti ugualmente, per cui questa destra a noi non piace. Chi ha questo timore ed è più contento di stare nell'area progressista e di sinistra, gli suggeriamo di votare l'unico vero candidato di centro-sinistra, Marchegiani, anche perché c'è comunque sempre il controllo del Movimento 5 Stelle su alcune battaglie storiche. Noi essere convinti di portare come candidato sindaco Marchegiani non è stata proprio una passeggiata, ma Stefano Marchegiani gli dobbiamo riconoscere competenza, capacità, serietà, programmazione e visione di città, con il controllo anche dei 5 Stelle e degli altri gruppi che formano la coalizione. Che percentuale pensate di raggiungere? Noi siamo convinti di andare al ballottaggio e di giocarcela con Sir Filippi al ballottaggio perché non vogliamo che la città appunto rientri in quella famosa filiera che se non c'è la filiera le cose non si possono ottenere. Competenza e capacità da parte di Marchegiani per fare in modo tale che Fano possa rinascere dopo questi ultimi anni non certo brillanti.